La qualità e la genuinità riscoprono gli antichi sapori della Valtellina. Il progetto Segale 100% Valtellina è un'iniziativa lanciata dall'Unione del Commercio e del Turismo di Sondrio, presieduta da Loretta Credaro, in collaborazione con Coldiretti Sondrio e Associazioni Panificatori e Pasticceri, con l'obiettivo di reintrodurre e valorizzare un'antica cultura, quella della Segale. È stato un percorso che è iniziato già 4-5 anni fa, con la ricerca di quelli che erano i semi antichi, autoctoni, valtellinesi, e uno sperimento che è stato fatto di valorizzazione, ripeto, di ripresa di questo seme, ci ha permesso oggi, con questo lavoro che è stato fatto con Coldiretti e con l'Associazione Panificatori, di avere un prodotto che sia veramente un prodotto del territorio, un prodotto di qualità e un prodotto che ci riporta un po' alle nostre origini e indietro nel tempo. Il progetto permetterà di riscoprire la bontà e la fragranza di un alimento unico prodotto in loco, ha spiegato Luigi Cao, presidente dell'Associazione Panificatori. Già da questo fine settimana sarà possibile degustare questo speciale pane di segale nei 10 panifici che adrescono all'iniziativa, sparsi su tutto il territorio della provincia. La produzione sarà infatti inizialmente realizzata soltanto nei weekend, fino al 5 marzo, ha specificato la Credaro, considerato che in questo primo anno di sperimentazione si sono ottenuti circa 40 quintali di segale, ma l'obiettivo sarà di estendere sempre di più questa filiera. Il turista che viene in Valtellina, oltre al valtellinese, ricerca un prodotto di qualità e noi abbiamo un territorio che ci permette di fare un prodotto di qualità senza usare pesticidi, senza usare nessun tipo di fitofarmaco per quanto riguarda le nostre coltivazioni. La cosa positiva è veramente la filiera che si è creata con Coldiretti. Stiamo sempre più facendo delle azioni di sistema e crediamo che questa sinergia sia assolutamente positiva per il nostro territorio. A rappresentare i produttori di segale Andrea Pellacchi, dell'omonima azienda agricola di Teglio, che da una prima produzione di 25 kg è riuscito appunto a raggiungere quota 40 quintali. Un lavoro di certo non facile, considerato che questo tipo di cereale, dalle numerose qualità nutritive, povero di glutine e di basso indice glicemico, richiede una buona dose di lavoro manuale. Per questo uno degli obiettivi sarà quello di realizzare un contratto fra coltivatori e panificatori, in modo da garantire la vendita del cereale ad un prezzo predefinito dalla Coldiretti, secondo una logica di qualità del prodotto e non di mercato.